Seconda parte di preparazione per l'Unione Sportiva Grosseto impegnata nel retiro di Castel del Rio dopo i primi dieci giorni che hanno dato esiti positivi e segnali incoraggianti per la formazione allenata da Massimo Silva i biancorossi si preparano al meglio per i primi impegni ufficiali della stagione per quanto riguarda il fronte mercato sempre molto attivo il DS Cristelli che sta cercando i giusti rinforzi i nomi più caldi sul taccuino sono quelli di Capitan Ciolli che per lui si tratterebbe appunto di un ritorno e in attacco quello di Nocciolini, due arrivi che i rumors le danno per molto probarli ma staremo a vedere nei prossimi giorni le ufficializzazioni che potranno arrivare dalla società